Tutta la stampa italiana è convinta che Michele Di Gregorio stia per entrare nella Juventus. Se ciò si concretizzerà a giugno, la Juventus prevede di avviare un processo di sviluppo per Di Gregorio, inizialmente come secondo portiere e poi promuoverlo a titolare a partire dalla stagione 2025-2026. Per continuare con il video, ti chiedo di iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun dettaglio. Tuttavia, questa possibile transizione potrebbe portare all'uscita di Mattia Perin dalla Juventus, poiché la Juventus sta seriamente considerando la sua vendita. A 31 anni, Perin potrebbe essere ceduto per ridurre le spese, specialmente considerando il suo alto stipendio. In realtà, se Di Gregorio dovesse firmare con la Juventus, il club dovrà scegliere tra Perin e Cessny, e attualmente, il polacco sembra essere in vantaggio. Grazie. 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 Grazie.